Tutti noi sappiamo chi è stato Napoleone, ma sicuramente nessuno si ricorda di Medardo Fontana, detto dagli amici Nesdols, naso dolce, perché era capace di fiutare solo con l'aiuto del suo naso un prosciutto ed identificarne uno dolce fragrante rispetto a uno salato e senza aroma. Che c'entra Medardo con Napoleone? Ebbene, il 25 giugno del 1805, quando Napoleone è a Parma, in visita a Mederic Modolo di Saint-Marie, governatore degli stati parmensi, da lui installato al posto del duca, riceve come benvenuto un piatto di prosciutto di Parma. Lo assaggia, ne rimane estasiato, lui che soffre di gastrite lo digerisce facilmente e chiede di scoprire il segreto del prosciutto. Ed ecco allora che entra in gioco Medardo. Medardo di Vianino, un contadino abituato a stagionare i suoi prosciutti all'area della Valceno, in quel luogo dove all'epoca si riteneva che i prosciutti venissero migliori. È lui che accompagna Napoleone e che spiega il segreto. La fibula. Un oggetto piccolo, accuminato, un osso di cavallo che si ricava da una delle dite atrofizzate dello zoccolo, appunto, del cavallo. Un materiale particolare e potremmo dire magico, perché è l'unico, a tuttora scoperto dall'uomo, in grado di poter essere infilato nella carne del prosciutto in cinque punti molto specifici e critici per identificare la perfetta stagionatura. È l'unico materiale che consente, una volta infilato ed estratto, di perdere immediatamente l'odore e di essere pronto per una nuova puntatura. Bene, quello che accadde nel 1805 accade ancora oggi, tutti i giorni, quando i puntatori del consorzio del prosciutto, prima di marchiare ogni singola accoscia, la verificano rigorosamente in cinque punti, per garantire la qualità assoluta di questo straordinario prodotto. Medardo ebbe un ruolo fondamentale, perché Napoleone, apprezzando le qualità organolettiche del prosciutto e soprattutto apprezzando il fatto che non gli avevano dato acidità di stomaco, ne consentì l'esportazione in tutti i territori dell'impero. È quello che in qualche modo fece partire l'attività di commercializzazione dei prosciutti anche all'estero e che diede il via alla attività salumiera che nell'Ottocento si sarebbe sviluppata enormemente fino ai nostri giorni. Grazie quindi a Medardo, a Napoleone e all'osso di cavallo, che a distanza di secoli ci aiuta ancora per garantire la qualità.